Nonostante questo addisonante titolo di membro del Comitato Scientifico di Padre Costituzione, oggettivamente io non sono un tecnico delle cose che mi si è parlato oggi, nel senso che professionalmente mi occupo di temi economico-finanziari, mi occupo di investimenti, diciamo così. Quindi ho delle competenze nel campo dell'economia, ma non certo il campo specifico di questo intricato oggetto di analisi del seminario del momento, diciamo, formativo-informativo e anche politico di oggi. Ciò detto, spero che, insomma, queste conclusioni possano essere rappresentative di come una persona, diciamo, normale, che un cittadino normale, forse un po' più che mediamente informato, ha, come si può dire, elaborato la luce della discussione della giornata e anche delle letture che ho fatto in funzione di questa giornata. Premetto che, secondo me, abbiamo iniziato alle 10, sono alle 18.03, ma vuoi contenere al massimo l'intervento per non, insomma, indurre tutti i presenti all'interiore, come si può dire, supplizio, insomma. Ad ogni modo, io penso che ci siano dei punti, se vorrei intervenire dicendo sostanzialmente due cose, sottolineato alcuni punti, magari dimenticavano alcuni, perché sono tanti, sui quali mi sembra ci sia una ampia condivisione che debbano essere, come si può dire, indicativi di momenti di costituzione di iniziativa politica e di lotta in confronto con le altre forze politiche, nei limiti del possibile, ed altri che, invece, rappresentano, quantomeno dal mio punto di vista, delle situazioni, come si può dire, di problematicità, che sottolineano i punti aperti, o rispetto ai quali personalmente, può essere come, insomma, il soggetto individualmente, mi sento abbastanza distante. Allora, sicuramente i dati che, dal mio punto di vista, in termini di valutazione politica, sono ampiamente condivisi, nelle cose che ho sentito oggi e che condivido pienamente, sono, prima di tutto, che il mare parte da lontano. C'è un tema che è la riforma del titolo V del 2009, che probabilmente è alla base di tutto, e una cosa di cui, nonostante tutto, e nonostante vendita da molto lontano, secondo me c'è poca consapevolezza anche nel campo della sinistra. Quello che si disegna, diciamo, nelle modifiche dei cittadini al articolo 117, 116, 117 e 119, che sono parte delle modifiche del titolo V, è sostanzialmente una predisposizione di un'autonomia alla Carta, in cui ci può essere una regione che si assume una responsabilità a un'autonomia su determinate competenze e una regione che se ne assume su altre. Facendo, diciamo, la combinazione delle 23 materie per le 20 regioni, vengono combinazioni in cui uno stato salito per definizione, cioè qualunque mente organizzativa di una sovranità unitaria, penso che di fronte a questo scenario dovrebbe dire abbia fatto un disastro. e fa male pensare che questa cosa sia stata costruita sugli ultimi giorni, diciamo così, prima della campagna elettorale che era visto peraltro subcomette la sinistra, da quello che fu il centro-sinistra. C'è un tema, chiaramente, che è quello alla luce del sole, vuol dire poco alla luce del sole, perché, come abbiamo visto, la trasparenza sul fondo della discussione pubblica, del dibattito pubblico, sui passaggi che si stanno compiendo, diciamo, dalla caduta dei governi sui lavori e dalla fine governi sui lavori ad oggi sono assolutamente poco trasparenti, ma c'è sicuramente un tema di costruzione, di aspetti distributivi regressivi, diciamo così, nell'assetto che si dovrebbe adelineare, che vanno evidentemente contrastati, non scendono le tecnicalità, degli standard piuttosto che dei costi storici, ma abbiamo chiaro tutto quello che ci è stato rappresentato questa mattina. abbiamo un tema, secondo me, fortissimo di messa a rischio dell'emogeneità a livello dei servizi a livello nazionale, fermo restando che io ci tengo a sottolineare, ma è stato detto nell'ambito del trattore dedicato alla sanità, che siamo già in un contesto in cui il servizio sanitario nazionale è, come si può dire, suddiviso in 20 servizi sanitari regionali, che sono molto diversi in termini di qualità delle prestazioni, e il tema citato del turismo sanitario mi sembra che anche le catute, diciamo anche le indotte, hanno sui vari territori, sia molto importante. Per cui partiamo già da una situazione negativa che è qualitata a diventare ancora peggiore. Abbiamo un tema da contrastare che è proprio della regionalizzazione della scuola, che continuo a pensare da vecchio, come si può dire, non so cosa, perché è difficile anche qualificarsi. Comunque, il tema di una scuola libero indipendente unitario, come un momento di accesso alla cittadinanza da parte di tutti i cittadini di un Paese debba essere grande attività, e abbiamo un tema di aspetti, come si può dire, di corso a ribasso sui standard ambientali, che ci è stato, secondo me, molto bene rappresentato da un collega di Lega Ambiente. Ecco, io direi che questi sono i punti, se vuessi fare come si può dire, una classifica dei punti chiave, delle cose sulle quali penso che il motivo per cui siamo tutti qua è quello di costruire una battaglia politica per rendere, come si può dire, contrastare questa tendenza, sono questi. Poi, detto ciò, io penso che forse gli elementi di riflessione più analitica, più puntuale, più dettagliata, e anche, secondo me, i problemi di città ci sono. Il primo punto è che bisogna partire da un dato di realtà. Cioè, qui, nonostante tutto, oggi, su questa bella iniziativa che ha visto anche persone assolutamente dottorevoli, eravamo, nel momento di massima affluenza, 50 persone, su un argomento che dovrebbe interessare a tutti, ma mi sembra che già nel nostro campo interessi poche persone, e nell'ambito del quale sappiamo benissimo che ci sono stati dei referendum in tutte le regioni di Pernoda, sicuramente in Veneto e in Bambia, diciamo così, e nel bambino del quale queste proposte sono passate. Per cui, cioè, questo è un problema. Cioè, bisogna partire da un dato di realtà che noi dobbiamo esercitare una contragenonia rispetto ad una genonia che non è nelle nostre mani. E questo è un tema importante. Per cui, sicuramente, e poi c'è anche un tema, come abbiamo visto, che questa, come si può dire, che c'è una sorta di ineluttabilità di un processo in atto che va verso queste forme, come, diciamo, chiamiamole di devoluzione, fra virgolette, per capirci, che è guidata da una sorta di inerzia politica trasversale, perché abbiamo visto perfettamente che ci sono anche regioni, guidate dal centro-sinistro, o comunque da non-eghisti, diciamo così, che sono assolutamente subalterne a questi passaggi. Come abbiamo visto il programma Gentiloni, che è stato assolutamente subalterno a questi passaggi, come ci è stato illustrato questa mattina. Per cui, questo è un tema. Cioè, il tema della costruzione di una contragenomia vuol dire che questo viene dibattito pubblico in maniera sicuramente più efficace di quello che riusciamo a fare, che non è di bene da noi, perché le nostre forze sono limitate, ma questo è un tema ambientale. Il secondo tema che qui non ho sentito, l'ho sentito solo in una parte dell'elemento dell'intervento di Lone questa mattina. Cioè, secondo me, tra questo dipartito, io non sono un moralista avvezzo al manette e alla, come si può dire, alla critica pregiudiziale dei politici in quanto tali, ma secondo me c'è un tema fondamentale di moltiplicazione dei centri di spesa. Cioè, e nessuno ha detto oggi, che secondo me questa è una cosa da dire, visto che tra l'altro è un tema delle manette che tira in questo paese. Cioè, perché sta facendo scoperta? Perché poter delegare, poter dire, a 20 centri di spesa vuol dire moltiplicare tra 20 le possibilità, come si può dire, di sottogoverno, e di governo anche, perché quel governo genera anche potere. Questo è un aspetto, diciamo, luminoso e non buio della vicenda che era stato sollecitato da noi. però questo mi sembra un punto forte sul quale, insomma, cercare di lavorare. Poi c'è un altro tema. Io, personalmente, per quanto riguarda, come si può dire, i diritti fondamentali del cittadino, che sono un lato della sanità dall'altro, per esempio l'istruzione, secondo me ancora più l'istruzione della sanità, come lo vedo io, c'è un tema che, comunque, insomma, non si può essere talmani e giacobini della definizione su tutto sempre e comunque. Bisogna confrontarsi sul punto che ci sono dei campi in cui autonomia un senso. Io penso, per esempio, al tema delle politiche industriali, al tema dell'initamento pubblico in economia. Se noi crediamo all'initamento pubblico in economia, come, secondo me, che dentro questa sala ci crediamo tanto, dobbiamo capire, secondo me, che gli interventi di politica industriale a livello nazionale sono spesso inefficaci e probabilmente bisogna lavorare su un ruolo pesante dei poteri centrali. Forse c'è anche un altro tema che c'è, sul quale, secondo me, non si può chiudere la cosa in maniera tranchante. Vedo e percepisco che, negli ultimi anni, il municipalismo è di sinistra e il regionalismo è di destra. Capisco che le maggioranze sono così, però ricordo che il regionalismo viene da sinistra, cioè le regioni sono state costruite in Italia nel momento storico in cui la regione è leggera. Peraltro, connettendo la precedente osservazione con questa, da registro che, in Unica Romagna, la richiesta di autonomia differenziata non nasce tanto dalla volontà, come dire, di andare nella direzione dell'autonomia sui servizi essenziali, ma nasce dall'esigenza di essere autonomo nella programmazione economica, che torniamo al punto delle politiche industriali. Per cui, su questo, secondo me, sono cercate di evitare di essere troppo, come si può dire, focalizzarsi solo su un no netto, senza se e senza no, ragionare un po', cercare di lavorare con i concetti un pochino più complessi. C'è poi un tema, e su questo voglio dire, secondo me, sono due temi strategici che sono molto importanti. Il primo, io personalmente, per quanto vi ho visto, c'è un tema dell'Unità del Servizio Sanitario Nazionale. Già oggi c'è una questione legata alla differenziazione regionale. C'è un tema degli accreditamenti e della sussidiarietà che va contrastato fondamentalmente, in particolare, in una regione di Malombardia. Però c'è anche un tema che, secondo me, mettere insieme, come ho sentito, adesso mi spiace, mi sembra che la professoressa Venti non ci sia. Cioè, mettere insieme in tutt'uno, fra tax, fondi sanitari, autonomia differenziata, bisogna il non liberista, va bene, però, cioè, io a questo punto dico che cosa è nell'oliverismo e c'è l'oliverismo, cioè queste due questioni. Allora, io per come, mi è stato spiegato, cioè come ho imparato, leggendo alcuni testi che mi è capitato di leggere negli anni scritti da otto me, come si può dire, analisti, sociologi e intellettuali, il mio liberismo ha prima di tutto una modalità che è quella che viene da con altri per dare il trasporto al rapporto liberista tedesca e che si consolida con il proprio guerra della non-poleric society e due elementi chiave, diciamo così, di questa modalità, come si può dire, di pensare il mondo e gli individui, è legato. Il primo è la concepire la soggettività umana come imprenditrice di se stessa in chiave di autovalorizzazione. Quindi una tematizzazione in cui la parola chiara è responsabilità alla quale si aggiunge una relazione strettamente disciplinante con il tema del debito che non sarà mai rimesso nessuno che con la performatività. Questi sono i temi fondanti come si può dire dell'antropologia non liberale per come concepita da quegli individuali che hanno poi alla fine, essendo diventati genomi, dato vita alla costituzione materiale che fa funzionare l'economia europea. Che poi si declina questa, al vero, il macro, non il micro diciamo così, non gli agenti individuali, si attiva come quel modo di governare l'economia che espende completamente la dimensione della politica dal governo dell'economia stessa e che si consomme dei tre principi su chiave che sono la circolazione delle merce di capitale a livello internazionale, l'indipendenza assoluta dalla banca centrale e la sua vita fiscale. Questi sono tre temi essenziali che qualificano il neoliberalismo. E quindi, rendere sostanzialmente impossibile in un oggetto prima qualunque discrezionalità dove la politica non dobbiamo avere. Quello è su base di quello presupposto della responsabilità e del contrasto alla nuova amassata, diciamo così, e che non ci sono fastidati per nessuno. Questa è un po' la logica. Ecco, allora, se questo è il neoliberalismo, dal mio punto di vista, a sinistra, in questa fase, non facendo una gran confusione, perché non lo stiamo attendo che queste destre sovraniste a partire da Trump che è egemo libero, sta rompendo con il punto 2, sta facendo su tutta la linea cose diverse da quello che è scritto in questo presupposto. Il secondo punto è che, se tutta la dinamica dell'autonomia differenziale ci può stare nel campo della performatività, cioè noi ci divertiamo dei piccoli e diventiamo più performative, quindi diventiamo più imprenditori noi stessi. Io, il tema della Flectas, se non si ponga con un taglio della spesa, cioè se non si ponga con un taglio della spesa, diciamo così, e il tema dei fondi sanitari del povero di crocefisso che attiene alla libertà di scelta, non li vedo con un'incontinuità con un discorso un gol delista, cioè i fondi sanitari possono essere brutti o buoni. Io so solo una cosa che si vanno nella mia azienda e dico che dove i fondi sanitari mi crocefiggono, cioè mi prendono attestate, insomma tutti. e questo, secondo me, spiega anche perché nell'ambito dell'elettorato cooperativo oggi ha legato il 40% in un modo o nell'altro ed è il partito di votato, ovviamente, dicono le analisi dei flussi elettorali. Quindi, su questo tema, come si può dire, abbiamo da pensarci, quantomeno, cioè, secondo me, mettere ordine quantomeno nelle parole di usiamo, nel nostro linguaggio e nel nostro modo di vedere il mondo. Poi, arrivo all'ultimo punto e qui, veramente, poi mi taccio, io penso che dentro tutto questo tema, l'altra cosa che ho sentito poco dentro tutto questo tema della giornata di oggi è che noi abbiamo fatto un discorso molto italiano. Cioè, noi abbiamo parlato della devoluzione, del federalismo, della richiesta di autonomia, della rottura, diciamo, territoriale della sovranità in una chiara che è stata tutta nazionale. Ecco, io su questo mi sarei aspettato, soprattutto dal primo intervento, abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere con Marco Luanzo e dal professor Bassi con la sua dimensione di esperti di politica internazionale. Cioè, non è che ci siamo trovati in una dialettica poi costruttiva che di tanto, ma il tema vero che io vedo questa percezione di questa vattura dell'abilità assorbente del governo nazionale in tutta Europa o in molte cioè, noi non ci rendiamo conto che in Catalogna stanno succedendo delle cose e ci sono dei politici locali che stanno cioè, sono in galera per questo tema e che c'è tutto l'arco costituzionale catalano che imparano cioè, ci sono tanti cioè, non sono solo la scossa per capirci anzi in quella situazione e in Scozia cosa è? Cioè, le identificazioni autonomiste della Scozia cosa sono? Sono cose di destra? Secondo me no sono trasversali dalla società spozzese e pensiamo che l'Ondra se si fa il Brexit non si svilterà come una forma di futuro autonomismo cioè, c'è gente che pensa già all'Ondra città-Stato fuori dall'Unione dell'Italia se non c'è il Brexit cioè, è una tensione quella che di cui è espressione di cui è espressione questa domanda di maggior autonomia della risulta di evoluzione che in Italia è in essere da parecchio tempo e queste richieste sono difficili da leggere perché sicuramente da una parte come è stato detto stamattina e io lo condivido soprattutto per quanto mi guarda l'Italia visti anche i dati economici che ci ha illustrato il Presidente dello Spinez da un lato sono figli dell'esperazione dal fatto che voglio dire c'è questa tensione fra l'unico interno di solitarietà l'unico esterno di austerità che è quello che ci ha detto Stefano Fassina stamattina che agisce e che stinge le zone mediamente superiori la domanda di quella come si può dire maggiore autonomia definata in quella speranza di performatività maggiore che si parla dei grandi uffici dei garminanesi questo parola ha letto un atto in dialetto cioè rendiamoci conto è un mondo in cui sottovalutare questa identità culturale è un po' un problema ci dobbiamo pensarci non è semplice dire no assoluto e quindi cioè io quello che penso penso che il tema vero l'ha comunque sottolineato Stefano stamattina possiamo pensarla in tanti modi diversi noi abbiamo di fronte un tema della disfunzionalità della costruzione europea nel governo dell'economia che è stata messa fortemente sotto pressione nell'ambito 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 della crisi questo è il tema fondamentale questo è il tema fondamentale io qui chiudo dicendo che se potessi pensare all'utopia sicuramente a differenza di molti continuo a pensare all'Europa come un super stato per della propria lotta generalmente sia capace prima o poi di esprimere la propria sovranità che sia l'Europa un momento di restituzione diciamo così e di inculcidrio a tutela delle parti deboli ma siccome questo non è non è perché l'Europa oggi è privato per il metodo intergovernativo ed è generalizzato da sovranità nazionali forti chiare e distinte e questo ce l'ha ricordato ancora stamattina secondo me un passaggio interessante del suo intervento questo non riguarda solo la politica monetaria della politica fiscale riguarda anche la FCA e non cioè il fatto che il capo dei imperisti faccia dica delle cose nell'ambito di un'operazione di mercato è significativo cioè che questo cacchio di continente è costruito sul metodo intergovernativo e se da quando non si scarica però non si risolve il problema non si riesce bisogna essere bisogna avere delle sovranità forti e quindi andare secondo me nella direzione della dissoluzione della nostra sovranità per confrontarci con delle sovranità forti che ha il suicidio è proprio la zonale le speranze del riuscire in qualche modo a prendere l'ordine per cui io penso che alla fine la lega che sta cambiando bene sta dirittando come dire la partito della successione a partito della destra nazionale per quanto mi possa far schifo la destra nazionale e tutto quello che quelli della destra in media fanno devono uscire da questa contraddizione perché se vogliono giocare la partita europea in una logica di conflitto e di confronto non possono sparcare l'unità di questi paesi che devono essere prestati a questi due paesi